Prosegue a vele spiegate il progetto Sauro 100, un viaggio in barca a vela per 100 porti per 100 anni di storia, patrocinato da ENTI, tra cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Marina Militare Italiana e la Guardia Costiera, ma anche associazioni come Lega Navale Italiana, Nazionale Marinai d'Italia, la Società Italiana di Storia dello Sport e Testate Giornalistiche. Un progetto portato avanti dall'ammiraglio Romano Sauro con un viaggio in barca a vela che tocca 100 porti italiani e 20 all'estero. Nei giorni scorsi si è tenuta a Siderno la presentazione del libro di Romano Sauro, Nazario Sauro, storia di un marinaio, i cui proventi sono stati devoluti all'associazione Peter Panolus di aiuto ai bambini malati di cancro. Nazario Sauro, nato nel 1880 a Capodistria, nell'Istria, allora austriaca, si dedicò sin da giovanissimo al mare e alle attività patriottiche italiane. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si arruolò volontario nella reggia marina con il grado di tenente di vascello. Catturato dall'Austria nel 1916, venne processato per alto tradimento e impiccato a Pola. Il libro racconta la sua vicenda umana, politica, militare e ideale ed è frutto di ricerche e di documenti, testimonianze e ricordi di casa Sauro. Il volume illustra anche il lato più intimo e privato del marinaio, come la vita di marito e di padre o le sue convinzioni socialiste sviluppate da giovane. Non solo un volume biografico dunque, ma tanto altro.